Nuovo appuntamento con i giornali in tv. Come sempre partiamo dalle notizie che arrivano dalla nostra regione, intanto sul quotidiano del sud con cui iniziamo oggi il nostro nuovo appuntamento con i giornali in tv. Si parla del caso di Davide Ferrerio, i legali dell'aggressore puntano su una perizia per riaprire l'istruttoria. Alcune patologie come con causa. Passa l'acqua, è stato condannato a 20 anni in primo caso. Si ricorda il caso di Davide Ferrerio, il ragazzo di Bologna che era in vacanza nell'agosto del 2022 a Crotone. È stato aggredito brutalmente, è ancora da due anni circa, in coma. C'è un'intervista all'imprenditore Callipo, non sono un eroe, la Calabria non la lascio, intervista a Pippo Callipo, politica capitolo chiuso, sanità, rete, ospedaliera calabrese, il Tar incalza i ministeri, scrive il Quotidiano del Sud, i giudici chiedono chiarimenti a MEF, il Ministero dell'Economia e Finanza e Salute, quindi anche al Ministero della Salute, dopo il ricorso del Comune di Paola. Vogliono sapere se c'è già un parere sul piano oppure dettagli delle verifiche in corso. A Crotone il sostegno dei sindaci alla battaglia degli agricoltori, Innovazione, Tech4U, 15 start-up presentano i loro progetti, Cara Sant'Anna, il Cara è il centro di accoglienza per rifugiati Sant'Anna di Crotone, l'interdittiva antimafia alla protezione civile Arci che si era giudicata, l'appalto. Comune di Catanzaro, il Consiglio Comunale di Catanzaro delibera su nuove mansioni per Catanzaro Servizi. Reggio Calabria, Cartella, il centro sociale che ha resistito alle speculazioni, Vibo Valencia, città e frazioni, un enorme cantiere a cielo aperto. Comune di Crotone, politiche sociali, Pollinzi, offriremo anche servizi itineranti. L'appello, il Parco Suddoreggino per ricordare a Dele Cambria l'incontro all'unica tavola rotonda sulla Costituzione, alla Mezzia Terme, due condanne a 24 anni dall'omicidio. Poi il rapporto, Lega Ambiente boccia la Calabria della scuola. All'interno delle pagine del Quotidano del Sud, i conflitti in Medio Oriente, ma anche in Russia e Ucraina, le questioni politiche nazionali, a tal proposito Meloni si scaglia contro Conte, eredità pessima, finita la stagione dei soldi gettati al vento per pagarsi le campagne elettorali. Non abbiamo tradito il Sud, i fatti sono più forti delle polemiche. Servono più risorse in sanità e non tagli, dice il segretario del PD Sline, la quale ricorda che mancano almeno 30.000 medici e 70.000 infermieri. migranti, la Camera ratifica il protocollo fra Italia e Albania. Il conflitto russo-ucraina, battuto volo russo, per Mosca si tratta di terrorismo di Kiev, l'addio a Gigi Riva a Cagliari. Il figlio dice fino alla fine ombre verticale, in 30.000 per salutare, rombo di tuono. In chiesa presente il ministro dello sport, pure gli atleti del Cagliari e della Nazionale. Poi diciamo del conflitto in Medio Oriente, Israele chiude le porte a una possibile tregua. Poi andiamo alle notizie regionali, un braccio robotico per la neurochirurgia a Cosenza, sanità, nuova rete ospedaliera, il TAR vuole chiarimenti dai ministeri. Azienda ospedaliera universitaria unica a Dulbecco, PET a Catanzaro, accordo con l'ASP per l'utilizzo di un mezzo mobile. Sempre a Catanzaro, nuova intesa per la farmacia dei servizi. Liste d'attesa e LEA, i livelli essenziali di assistenza, fermi. La denuncia della GUIL, debbiase della GUIL pensionati, stanziati 15 milioni, ma nessun cambio di passo. E poi dicevamo della ampia intervista all'imprenditore Pippo Callipo, dopo il recente attentato al capannone dell'area industriale di Lamezia Terme. Il re del tonno si racconta affrontando non solo i temi legati alla sicurezza e alla lotta e alla criminalità, ma anche quelli del lavoro sommerso. Quello della politica è un capitolo chiuso perché ho assistito a situazioni che non potevo accettare. Il rapporto con i miei dipendenti è sempre stato molto stretto. Quando posso li aiuto economicamente. intanto incentivi per la videosorveglianza, misure previste a Catanzaro, Crotone e Vibbo Valencia, scrive il Quotidato del Sud. Ricordiamo che lo stesso Callipo denunciò che all'area industriale di Lamezia Terme non funzionano le telecamere di videosorveglianza. Il tavolo tecnico non basta. L'assessore Gallo spiega che il banco rischia di saltare. Gli agricoltori dialogano civilmente, ma annunciano che proseguiranno le proteste sui trasporti, in particolare sulle nuove rotte di Ryanair dalla base di Reggio Calabria, però chiude un evento storico soddisfatto del risultato del duro lavoro, il presidente della regione. Poi, riuscita senza difficoltà, la nuova esercitazione del sistema IT Alert ha simulato un disastro industriale nella provincia di Cosenza. Arte e Girasoli, il Demo Day delle start-up. Alla Mediterranea di Reggio 15 giovani aziende hanno presentato il loro lavoro, l'iniziativa di Tech4U, idee futuribili dall'incubatore di Entopan. Lega Ambiente boccia alla Calabria della scuola e la penultima regione per fondi aggiudicati. Il boss e l'autista inseguiti e uccisi. Due condanne a 30 anni di carcere alla mezza terme, l'agguato del 2000, quando vennero uccisi Giovanni Torcasio e Cristian Matarasso, sono stati condannati Pietro Iannazzo e Domenico Candizzaro. Domenico Candizzaro è stato ritenuto uno dei mandanti, mentre Pietro Iannazzo per la DDA è stato colui il quale avrebbe guidato la moto di grossa cilindrata con a bordo il killer. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Isola Capurizzuto, clan in Veneto, chiesto giudizio per 40, stralciata la posizione del senatore leghista, l'inchiesta sul locale d'Indrangheta di Verona. È stata chiesta una nuova istruttoria per l'aggressione a Davide Ferrero, lo leggevamo nella prima pagina. Al via il processo d'appello contro l'aggressore del giovane bolognese, la difesa dell'aggressore punta su una perizia, patologia è caduta con cause. A Rosarno correre della droga beccato con 8 kg di cocaina, a Crotone abusi sessuali su una tirocinante, un orafo finisce agli arresti domiciliari. A Catanzaro, nuove mansioni per Catanzaro Servizi, lo leggevamo anche alla prima pagina. E poi andiamo a Girifalco, il grande sacrificio di un uomo, sabato la posa della pietra d'Inciampo alla memoria di stranieri, con cittadino deceduto nello Stamlager nazista di Forbach. Andiamo alla mezzia terme, una singolare procedura negoziata. È stata annullata la determina per il responsabile della protezione dei dati personali. Mancava l'approvazione del bando disciplinare di gara, l'affidamento all'ASMEL di questo importante servizio. Quindi, oltre alle richieste di chiarimento e il questionario ancora non trasmesso alla Corte dei Conti, di cui il Comune ha chiesto una proroga, visto che al Comune è arrivato il 5 dicembre scorso, un altro enigma da decifrare riguarda la designazione obbligatoria del responsabile della protezione dei dati per il servizio Data Protection Officer a garanzia e tutela del trattamento dei dati personali, scaduto già dal 31 dicembre 2023. Quindi questa determina del segretario generale del Comune della Mezzia, l'Avvocato Simona Provenziano, è stata annullata. Mancava il bando disciplinare di gara. A conflenti, via ai lavori per la demolizione e la ricostruzione della scuola media. Poi alla mezza termine ci sarà un incontro il 5 febbraio al Chiostro Caffè letterario su iniziativa dell'Avvocato Mario De Grazia per eventualmente la costituzione di un comitato per la difesa della Costituzione e dell'unità. Il tutto alla luce della legge sull'autonomia, del decreto legge sull'autonomia differenziata. Iniziativa Castelli e Chiese, il protagonismo di Borgomeo abbiamo inaugurato una mostra e presentato il libro Sud, il capitale che serve a Lamezia. Ne avevamo parlato nelle edizioni precedenti e quello che era un rischio ormai sembra certezza, la città di Lamezia ha perso o sta perdendo o perderà un evento nazionale. La Royal Lamezia, calcio 5 femminile, trasloca a Cosenza la partita di Coppa Italia nazionale, calcio a 5 contro una squadra di Milano. Tutto questo perché il gestore del palazzetto dello sport non ha voluto spostare l'orario nel tardo pomeriggio rimanendo fermo che la gara si può giocare alle 15. Il gestore del Palace Party inamovibile non crediamo sia un problema giocare alle 15 ma la Royal ha deciso di spostare a Cosenza questa importante partita nazionale. La Royal ha avuto l'ampia disponibilità da parte del gestore del Palacosenzia, cosa che invece non ha avuto a Lamezia. L'incontro a 800 anni dal presepe di Greccio, un messaggio di pace e di riconciliazione alla comunità dei Cappuccini. Poi a Cortale, Desiree Cefali parteciperà al Festival Roma Capitale, sia qualificata nella selezione di Latina. Alla mezza c'è un appuntamento con l'Alta Sartoria all'albergo centrale. Carmine Pinto al Chiostro Caffè Letterario presenterà il suo romanzo Il Brigante e Il Generale. Poi l'intervista all'assessore delle politiche sociali del comune di Crotone. Offriremo anche servizi itineranti. Poi Antonio Megna, l'ufficiale di governo di Papanice, su un suo avvicinamento alla maggioranza, dice non ho mai barattato la mia carica. Poi a Reggio Caleb, sul ponte, una scuola di formazione. Andiamo ancora ad altri territori, andiamo a Vibbo, città di Vibbo e frazioni, un enorme cantiera a cielo aperto. Numerosi lavori in corso e quelli in arrivo nelle prossime settimane, comprensibile il malcontento dei cittadini per i tanti disagi e i pochi parcheggi. È in dubbio tuttavia che tali opere potrebbero migliorare la veste urbanistica. Poi il sindaco di Vibbo plaude all'arrivo di cinque nuovi magistrati al Tribunale di Vibbo Valencia. Provinciali a Vibbo sono 544 gli elettori. Andiamo ancora sul Vibbo, focus sulla crescita economica di Vibbo Marina e Portosalvo. Ci sarà un'iniziativa sabato prossimo. A Pizzo, centrale operativa territoriale, il comitato civico non si arrende, sempre a Pizzo. Economia al collasso, la crisi si fa sentire, i commercianti di Pizzo sono sempre più in difficoltà. A Tropea, cinghiali a spasso per le vie del centro abitato di Tropea. Cittadini ovviamente preoccupati di questo ormai fenomeno dilagante, di vedere appunto cinghiale a spasso fra le città nei centri cittadini. Sempre sul quotidiano, Parco Sud Regino per ricordare delle Cambria, il caso Mario Oliverio, il libro e l'uomo pienone alla casa delle culture a Catanzaro. La democrazia italiana che lotta tra i poteri forti, nella tavola rotonda sulla Costituzione, all'unica, anche Luigi De Magistris. Arriva il Magna Grecia Comics, la carmesse si terrà a febbraio a Le Castella di Isola Capo Rizzuto. Questo era sul quotidiano del Sud con cui oggi abbiamo iniziato appunto il nostro nuovo appuntamento con i giornali TV. Ci torneremo ovviamente con il quotidiano del Sud, torneremo ancora con le pagine del quotidiano del Sud quando appunto ci avvieremo alla conclusione con lo sport. Intanto andiamo ora, restando appunto nel respiro regionale delle notizie, andiamo in rete con Gazzetta del Sud online, nell'edizione Catanzaro, Crotone, La Mezzia Terme e Vibbo. Andiamo a leggere questa notizia. Concessioni e Catanzaro Servizi, arriva l'ok dal Consiglio Comunale. Provincia di Vibbo verso il rinnovo del Consiglio Provinciale, prepartita in vista delle amministrative. A Catanzaro torna a vivere lo stadio curto di Catanzaro Lido, grazie alla sinergia tra pubblico e privato. Aiuti PAC, cinghiali e gestione in rigua. Gallo, l'assessore Gallo, assessore regionale, apre un tavolo con gli agricoltori di Crotone. Poi ancora fondali del porto di Crotone, passati al setaccio per verificare se c'è inquinamento. Ancora altra notizia, sede del 118 di Taverna, dopo il crollo del tetto quasi un anno fa, ASP non pervenuta. E poi, duplice omicidio Torcasio e Materasso alla Mezzia, condannati a 30 anni di carcere, esecutore e mandante, scrive Gazzetta del Sud. Poi, il pestaggio di Davide Ferrerio a Crotone, al processo d'appello alla difesa chiede di riaprire l'istruttoria. E ancora, violenza sessuale e atti persecutori ai danni di una giovane donna, professionista crotonese, finisce ai domiciliari. Altra notizia, ambulanti multati a Crotone, manca l'autorizzazione alla vendita e l'occupazione di solo pubblico. Poi, Calabresi all'antica, Giovanni Battista Romano, in concerto per l'Aggimo Scatanzaro. Poi ancora, carta dedicata a te, il comune di Catanzaro ricorda la scadenza del 31 gennaio del 2024 per effettuare il primo pagamento, pena, la decadenza del beneficio. Poi, intimidazioni e racket, fondi alle imprese dalla Camera di Commercio di Catanzaro per l'installazione di videosorveglianza. E ancora, Ciron Marina, beccato con la droga e 900 euro in contante, arrestato un 26enne. A Crotone, strappa il telefono dalle mani di una minorenne e fugge. E' stato arrestato un 26enne e poi ancora a Crotone prosegue a oltranza la protesta degli agricoltori via i blocchi, ma non i disagi, scrive Gazzetta del Sud. Restiamo sempre online. Andiamo a scorrere anche la home del lamettino.it. Una donna travolta e uccisa da un camion a Campora San Giovanni. Purtroppo un'altra tragedia. Deciduta in ospedale, una donna investita a Campora San Giovanni. Questo era appunto sullamettino.it. Altra tragedia. Poi lo leggevamo nella home anche di Gazzetta del Sud, nelle pagine interne del quotidiano del Sud. Alla Mezzia, un duplice omicidio nel 2000, condanna a 30 anni per presunti mandante ed esecutore. E poi il giovane in coma dopo prestaggio a Crotone, chiesta la riapertura dell'istruttore per l'autore, nel caso di Davide Ferrerio. Alla Mezzia Terme, perdita idrica all'acquedotto Sambugo, di servizi in alcune zone, un acquedotto che continuamente viene interessato da Guasti. Poi Report, Lega Ambiente, in Calabria, una scuola su tre a necessità urgente di manutenzione. Sono stati premiati i comuni Plasti Free, in Calabria sono nove. Alla Mezzia, il direttore di pneumologia sulle carenze di sedie vicino all'ambulatorio dell'ospedale, in corso l'acquisto degli arredi. Poi Alla Mezzia, la terza commissione consigliare, visita la sede dell'associazione Sincronia. E ancora, iniziativa Sicuri con la neve 2024, presso gli impianti sciistici di Lorica, Monte, Botte e Donato. Alla Mezzia, Teatro Umberto e Abbazia Benedettina, sono le location delle riprese del film Una Fottuta Bugia. E poi Alla Mezzia, la storia di Ciccio, il cane di piazza 5 dicembre, che ha trovato una famiglia. Ancora sull'amettino.it, Lega, nuove infrastrutture autostradali in Calabria, opportunità di sviluppo e connessione alla regione, rinviata al 6 febbraio la pubblicazione dell'avviso dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. Calcio a 5 alla Next Atlas, sulla gara di Coppitale spostata a Cosenza, interviene per fare delle precisazioni. Poi incontro formativo odonto-tecnici su nuove tecnologie nell'evento della Confederazione Nazionale Artigiani alla Mezzia. Sempre alla Mezzia è stata inaugurata la mostra Castelli e Chiesi di Calabria, è presentato il Libro Sud, il capitale che serve. Calcio a 5 femminile, il Palace Party della Mezzia è disponibile, dicevamo, la gara di lottata a Cosenza. Poi gli agricoltori lasciano la regione, il presidio ora si sposta a Botricello. E' sempre alla Mezzia, al Museo archeologico, l'Ametino, il laboratorio ludico-didattico per bambini, mettiamo insieme le tessere. Poi alla Mezzia è concluso il corso di formazione per docenti su tema competenze umanesimo. Anche qui Intimidazioni e Racket, incentiva le imprese calabresi per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza. e andiamo ad un'altra notizia, PNRR Salute, la fondazione Gimbe, in Calabria aumentare pazienti in assistenza domiciliare. Poi turismo, chiuto, Calabria, se è la regione a misura di bambino, alla Mezzia incontri sugli 800 anni Natale di Francesco, dal presepe di Greccio, un messaggio di pace e riconciderazione. E poi un incendio distrugge un negozio nel Cosentino. C'è l'ipotesi del dolo. Questo era sempre sullamedino.it. Andiamo nella parte finale del nostro appuntamento con i giornali TV, con l'edicola digitale, i principali titoli dei quotidiani nazionali oggi in edicola. Sul Corriere della Sera, Ucraina, accuse dopo la strage, la Repubblica, la velina nera, poi la stampa, autonomia, sanità a rischio, libero, le sportellate di Giorgia, resa dei conti alla Camera, il giornale, scintille tra Meloni e Schlein, la sfida in aula, il fatto quotidiano, i 45 senatori del Sud che hanno tradito il Sud a proposito dell'autonomia differenziata. La verità, a 30 all'ora più incidenti e più feriti, il Ministero di Salvini detta le regole, un freno ai limiti eccessivi. Il tempo, dilettante allo sbaraglio, question time alla Camera, il messaggero, sanità, auto, conti pubblici, il duello in aula di Meloni, e poi sull'identità, la resa dei conti, scrive il quotidiano, l'identità, su domani, sanità, scontro tra Meloni e Schlein, il primo duello, lo vince, la DEM, il sole 24 ore, controlli solo sul 5% delle partite IVA, l'unità, sono talmente patrioti che di patria ne vogliono due, una ricca e una povera, il manifesto, il mondo nuovo, il riformista, tasse time, il gazzettino, auto e polemiche, Meloni accelera, il mattino, Meloni e Schlein, prima sfida, il dubbio, difende Pifferi, la madre omicida, penalista, indagata, poi il secolo XIX, sanità, incognità, autonomia, il resto del carlino, il governo a Stellantis, produca in Italia, avvenire, anziani, si parte, la notizia, dalla Meloni, 90 minuti di balle in Parlamento, Conte e Schlein, la sbugiardano, punto per punto, sull'ego, Meloni e Schlein, duello sulla sanità, sul quotidiano del sud, l'atroce dell'Italia, l'anello debola di un'Europa schiacciata, question time della Meloni, il rischio capitale da scongiurare, è un cedimento nella politica estera, poi la discussione, finito il tempo in cui si buttavano i soldi, Stellantis, acquisizione francese, andiamo ora come sempre a concludere con le pagine dello sport, su Gazzetta dello Sport leggiamo Scherzi da Juve, ha soffiato Jalot all'Inter e cede Ken all'Eurorivali, appunto dell'Atletico Madrid, l'ultimo rombo, i funerali di Gigi Riva, di spalla, Sinner può farcela, ecco perché Sinner può farcela, in semifinale gli Australian Open affronterà il numero uno al mondo Djokovic, poi sul Corriere dello Sport caccia alla talpa, la denuncia delle Iene apre un caso, lotte di potere dietro gli errori, arbitri contro le accuse, Rocchi corre ai ripari e schiera più esperti, poi sul Corriere dello Sport, Ildiz vola e Ken va a Madrid, Robocop è a Napoli, ora a Perez, sul Corriere dello Sport, poi ancora, grazie per averlo amato così il figlio di Gigi Riva ai funerali, su tutto sport, Juve scudetto da ragazzi, intervista a corsi, patron dell'Empoli, prossimo avversario, poi su tutto sport, Sinner, nessun dorma, attesa nella notte a Melbourne la semifinale, show con Djokovic, sono venuto per questo, e poi sempre su tutto sport, di piede la prima pagina, quando Gigi Riva tornerà sul quotidiano sportivo, QS Conte, l'ora del ritorno, si parla di un ritorno, appunto di Antonio Conte sulla panchina, e poi il caso della trasmissione, le Iene sugli arbitri, anche sul quotidiano del Sud, inaccettabile, portate le prove, sotto la lente, la trasmissione, le Iene, il presidente Pacifici, fiducia a Rocchi, vogliono solo gettare ombre su di noi, l'AIA contro le accuse di anomalia nel sistema, lanciate da un arbitro in incognito. E andiamo in Serie B, sul quotidiano del Sud, Catanzaro fra mercato e campionato, i Gello Rossi in anticipo, con il Palermo al Ceravolo, è fatta per Jacopo Petriccione, mentre Krastev fa ritorno alla Fiorentina. Sempre in Serie B, Cosenza, adesso cresce la fiducia, Guarascio, il presidente del Cosenza, mai messo in discussione, Caserta, mercato, da Riva in arrivo. Tanti tifosi a seguire gli allenamenti, grande entusiasmo, poi il recupero in eccellenza, il derby del Rende, Paolana sconfitta, Squash, Carmine Chiappetta e Flavia Miceli, i campioni regionali agli assoluti, poi Serie C, parliamo del Crotone, il Crotone fra arrivi e partenze, prime dichiarazioni in rosso-blu, dei nuovi acquisti, Stronati e Altobelli, Asse con la Provercelli, e scambio Rojas-Valentini, in attacco c'è Comi per il Crotone, e poi Tennis Open Australia, grande attesa per la sfida Sinner-Jokovic, intanto l'altra semifinale sarà tra Medvedev e Zeverev, questo era sempre sullo quotidiano, Serie D, a Siracusa servirà una regina, forza e carattere, banco di prove impegnativo, per la squadra Maranto, domenica in Sicilia, contro la vice capolista Siracusa, vi ricordo a proposito di calcio, l'appuntamento settimanale, sempre sui canali 98 e 112 di STV, con a tutto calcio. Siamo arrivati con lo sport, come sempre alla conclusione, anche per quest'oggi, del nostro nuovo appuntamento con i giornali TV, come sempre abbiamo iniziato con le notizie di respiro regionale, abbiamo iniziato con la prima pagina del quotidiano del Sud, delle pagine interne, poi siamo andati sempre sulla rete, con Gazzetta del Sud Online, e lamettino.it, anche oggi, l'edicola digitale, con i principali titoli dei quotidiani nazionali, oggi in edicola, c'è tanto spazio, quasi tutto lo spazio, delle prime pagine dei quotidiani nazionali, oggi in edicola, è stato dedicato allo scontro fra Elislein, Conte, con la Premier, Giorgia Meloni, in Parlamento. Poi, come sempre, abbiamo concluso con lo sport, con le pagine dello sport, sia del quotidiano nazionale, che del quotidiano del Sud. Quindi, con lo sport, come sempre, abbiamo concluso, anche l'odierno appuntamento, con i giornali in tv. Da Pasqualino, come sempre, è tutto. Grazie per l'ascolto e l'attenzione, grazie per averci seguito fin qui, naturalmente, con i giornali in tv. Vi diamo appuntamento alla prossima edizione. Grazie per aver guardato il video,